Buona settimana dagli studi di Biancorossi News, vogliamo oggi perché abbiamo un ospite che tutti conoscerete, Margherita Acquaderni. Buongiorno Margherita, ben trovata qui con noi. La colonna del volo a vela di Varese intitolato la memoria di Adele Orsi, ma è anche reduce da un mondiale in Australia, in cui è stata accompagnata dal coach che è di fianco a lei, Riccardo Brigliadori. Piacere. Bene, grazie per essere qui con noi, allora io chiedo subito a Margherita un po' le sensazioni di questo mondiale che si è disputato il mondiale di volo a vela, avete entrambi i giubbetti dell'Aeroclub d'Italia, insomma quindi i colori della nazionale, ecco un po' le impressioni per quanto riguarda questa esperienza, questo mondiale che è andato molto bene. È stata un'esperienza assolutamente degna di nota, preparata da lontano, perché abbiamo fatto numerosi allenamenti, anche se devo dire che è stata un'esperienza del tutto particolare, perché l'Australia come tutti saprete quest'anno è stata flagellata da numerosi incendi che hanno procurato tantissimo fumo che ha invaso anche il nostro campo di gara più di una volta e in più ha avuto anche un altro record, il record del caldo. Abbiamo volato in condizioni veramente direi quasi estreme perché le temperature si aggiravano fra i 38 e 45 gradi per più di metà della gara, per cui è stata veramente anche fisicamente faticosa. La spedizione è andata molto bene perché la mia compagna di squadra Elena Ferniani di 31 anni di Ferrara, che è ancora in Australia in vacanza, ha vinto la categoria di classe club, mentre io correvo in categoria a 18 metri. Mi sono classificata decima, ma il vero risultato è stato anche quello di portare l'Italia sul terzo gradino del podio, lasciando indietro nazioni molto importanti come la Germania, la Polonia, la Repubblica cieca, la stessa Australia. Abbiamo seguito Francia che ha vinto e Gran Bretagna, quindi direi un risultato degno di nota e sicuramente che segna una pagina della storia del volo a vela femminile molto importante. Una bella soddisfazione Riccardo Brigliadoni, accompagnare queste ragazze in Australia per un'emozione, un campionato che ricordiamo si è chiuso, questo campionato del mondo si è chiuso il 17 di gennaio. Sì, un'esperienza fantastica anche dal mio punto di vista. Come coach devo dire che questo risultato di squadra è stato ottenuto grazie a questo binomio, questa sinergia fra la maturità diciamo e l'esperienza di Margot, Margherita e la freschezza potremmo dire di Elena che effettivamente è riuscita a schiacciare il pedale dell'acceleratore e sul finire proprio di queste dieci prove è riuscita ad agguantare il gradino più alto del podio. Ecco, parliamo un attimo di queste prove, in cosa consistevano, magari non tutti i nostri tre spettatori sono pratici di volo a vela. Le gare di volo a vela sono essenzialmente delle gare di velocità, cioè immaginiamo una regata velica, una volta segnato un percorso il concorrente decide di attraversare la linea di partenza nel momento in cui lo desidera, proprio per fare anche un po' di speculazione tattica o strategica in funzione delle condizioni meteo e naturalmente deve sfruttare le correnti ascensionali, quindi tracciare, scegliere le rotte più opportune, compiendo magari anche dei fuori rotte importanti per riuscire ad aumentare la velocità media sul percorso. Devo dire che insieme alle nostre due pilotesse abbiamo realizzato una bellissima pianificazione con grande attenzione ogni giorno, curando adeguatamente la meteo, non abbiamo trascurato alcun tipo di dettaglio, abbiamo sempre tenuto alta la tensione e la concentrazione nell'arco di 15 giorni, perché una nota molto importante è questa, che un pilota non è sottoposto a un grande sforzo fisico, però diciamo che l'attenzione e la costanza dal punto di vista psicologico è importante, quindi un coach serve anche per mantenere il livello energetico adeguato per tutto questo periodo di gara. È stata una fatica oppure... È stata una grande fatica, fisicamente veramente molto alta e poi anche direi da un punto di vista di stress, perché abbiamo avuto condizioni, anche abbiamo avuto tempeste di sabbia, abbiamo avuto non tanti temporali, però sempre una meteorologia molto variabile e anche direi molto particolare rispetto allo standard di quel posto, per cui sì, faticoso sì, ma anche meraviglioso. Io sono un entusiasta. Ci racconti qualche aneddoto? L'aneddoto più bello è che la prima volta che sono atterrata in pista mi è stato detto per radio, be careful kangaroos on the runway, c'erano i canguri che attraversavano la pista, canguri ovunque e poi appunto una zona molto molto bella. Lake Ipit ci doveva essere un lago che era allo 0,5% del contenuto di acqua, quindi anche questa grande siccità che ha caratterizzato direi un'esperienza veramente speciale, molto molto particolare. Siccome la nostra trasmissione non è rivolta agli specialisti della materia, della vostra specialità, magari ricordiamo come occorre alimentarsi prima di una gara, idratarsi magari in questi contesti. Idratarsi è stato estremamente importante anche proprio per il caldo ed era anche un caldo molto secco, quindi dovevamo bere tantissima acqua ma anche assumere sali minerali per reidratarci e anche l'alimentazione è molto importante perché ovviamente non possiamo avere picchi glicemici per cui cerchiamo di mangiare, di fare un'abbondante prima colazione al mattino e poi portiamo delle barrette di quelle equilibrate diciamo per non avere troppo zucchero e di essere sempre molto focalizzati e molto freschi con la mente perché in agli ante come ben sapete non si può mettere la freccia a costare se si stanco e comunque durante tutta la gara bisogna essere sempre molto molto concentrata per cui tutto concorre anche l'allenamento fisico nonostante siamo seduti e quasi fermi però è molto importante. Bene, grazie a Margherita Quaderni, vorrei chiudere, siamo proprio in chiusura, abbiamo uno scampolo, una manciata di secondi, il nostro coach Brigliadori è anche però un atleta insomma un campione di volo a vela. Diciamo che nonostante non sia più in tenera età non ho rinunciato a cercare di togliermi qualche soddisfazione dal punto di vista personale, il prossimo anno, anzi l'anno in corso avremo i campionati del mondo. Bene, quindi la seguiremo. I nostri amici telespettatori dove la possono incontrare? Sul campo di calcinate del pesce o presso la mia scuola, pilota per sempre in provincia di Lecco, insomma in genere su quasi tutti i campi di volo d'Italia. Benissimo, pilota per sempre, la verremo a trovare e soprattutto andremo a trovare anche la bella Margherita Quaderni, ricordiamo dove avete il volo a vela. A Cao, vi aspettiamo in A Cao. Benissimo, va bene, grazie. Grazie mille, grazie a tutti voi, l'appuntamento con il palinsetto sportivo di Rete55, arrivederci.